Sì, occhio all'ultima perché è un po' stramba Ti vedo Dai Severin che siamo tornati a 40 anni fa 40 anni fa, giusti? Figaro Ma tutti qua siete? Che cazzo devo fare tutta questa zona? No ma non... E' solo questa devi guidarla bene Eh voglio vedere Eh è un po' Un po' da guidare E' tornato il vito Che chi vuoi? Vai da un'altra parte Sono tutti qua E vai alla uno Camminare, camminare che fa bene al cuore Vai alla uno che fa bene al cuore Vai Vedi io... Oh! Io porto sfiga mi hanno messo il coso Quindi Vai vai Eh, questo è un po'... Allora, voi due? Oh, non c'è mai tempo da perdere qua, eh? Sì, messo, messo! Ma sappiamo dove c'è la moto? Dov'è la moto? Ah, buono! Ah! 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 Bravo, segui la porta, torni indietro... Faccio la curva qui... Esatto, perché qualcuno l'ha tagliata, però la resta troppo stretta, stretta, perché ci stai dentro lo stesso perché gira lì, è meglio girare. Non incrociare qua perché ti da 5, eh? Sì, no... Quindi, quando tu scendi, stai in largo il più possibile e dopo la richiudi, eh? Perché altrimenti il gaspere ti secca, eh? Giustamente. Perché lì è stretta, girarla su. Eh! Ha provato prima uno, ma devi chiuderla tanto là... Vediamo! Quando sono lì le scelte... Secondo me... Basta che tanto se arrivi qui, tu scendi, la allarghi e poi la richiudi qua senza andare dentro un po'. E va bene, ma cazzo, è alto 10 centimetri, madonna! Perché guarda che lì è molto stretta, devi pesarla tanto. Eh, lei viaggia, eh? Sì, ha già fornito la mia casa. 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 Guarda cosa c'è qui. È la prima volta che fanno bene. Allora, le prima volta che guarda le macchette a provate will allow per questo alcance. Siamo aョ esse, che già giù amore.